Ecco, quindi dopo aver ascoltato l'augusto perere di Leonardo Colombati, torniamo adesso nello specifico di qualche testo che ti ha colpito particolarmente per questo o quell'altro motivo, come direbbe qualcuno. La sensazione è che il testo migliore sia quello di Van der Fros, che può sembrare un'eresia, però il fatto di scrivere in dialetto e non in italiano è come se lo avesse liberato da queste briglie dell'italiano sanremese, non aveva degli obblighi da rispettare, ha una lingua che gli accenti sulle finali ce l'ha naturalmente, perché è un dialetto che tronca, però al tempo stesso è l'unico che è riuscito a recepire le parole che stiamo vivendo, le parole della contemporaneità, cioè è un testo attuale. Questa finzione, tra l'altro interessante sul piano narrativo, dei personaggi di Sandokan, almeno per chi come me è cresciuto con lo sceneggiato televisivo di Sandokan, che hanno a che fare nella costiera adriatica con la realtà di tutti i giorni, ha fatto sì che lui sia l'unico ad avere per esempio dei neologismi, perché troviamo le vuvuzelas, che sono, voglio dire, di quest'anno, dei mondiali di calce, non hanno bei ricordi per quanto riguarda gli italiani. E non soltanto anche per le nostre orecchie. E poi c'è il mojito, c'è l'happy hour, quindi sono al tempo stesso non solo neologismi in italiano, ma parole straniere, e poi tutta una serie di marchi, in realtà noi viviamo una realtà linguistica fortemente condizionata dai marchi commerciali, li possiamo citare, lui le ha cantate a Sanremo, c'è la Suzuki, c'è Sandokan, anche ai mutande della billabong, il costume della billabong, però detto in mutande è più divertente, c'è l'iPhone, e questa capacità di mescolare un dialetto locale, il dialetto del lago di Como, con questo mondo di parole straniere e molto attuali, è esattamente quello che si definisce glocal, il globale e il locale messi insieme. Un'operazione interessante, così come è interessante suonare un folk irlandese che ha in comune forse le origini celtiche con il nord Europa, la matrice dialettale è in realtà molto calata nella contemporaneità, non ci dimentichiamo che gli ultimi datistat dicono che gli italiani parlano, quando sono in famiglia o tra amici, per un terzo, il 33%, dice così, un miscuglio, una mescolanza di italiano e dialetto, è quella cosa lì che è la lingua di tutti i giorni. Una variante regionale, forse. Sì, quello di Van der Svaroos è più sbilanciato verso il dialetto, quello che noi parliamo di solito è più sbilanciato verso l'italiano, ma insomma è sicuramente la canzone meno paludata, più libera e, ripeto, più attuale dal punto di vista delle scelte linguistiche. Poi? Dopo di lui? Ma dopo di lui il diluvio, no, perché il diluvio riprende la metafora meteorologica della pioggia. Dopo ci sono altre cose interessanti, un'operazione interessante è quella, a proposito di Italieno, che ha fatto Madonia nell'alieno, perché riprendendo un'abitudine che era proprio di battiato, abbiamo detto il glocal per Van der Svaroos, qui è un'abitudine del postmoderno, ha creato una specie di puzzle di citazioni, cioè non c'è quasi nulla di nuovo in quella canzone, forse anche la musica. Questo io non mi pronuncio essendo un esperto di testi, ma non c'è nulla di originale per un effetto voluto, per cui penso ad esempio a una strofe, alla canzone che comincia con Vago, e beh, avendo battiato lì che cantava, vagavo per i campi del Tennessee, è l'inizio di una strofa della cura, tu non mi basti più. Che c'entrava il Tennessee a quel punto io ancora me lo chiedo. Ebbè, ma in battiato ci sono tutti questi nomi esotici che servono a creare delle atmosfere rarefatte, così lontane dall'esperienza di tutti i giorni. Andiamo oltre. Quindi ci potrebbe essere il Klondike, magari c'era il suo paperone. Oppure c'è un'altra citazione esplicita, quella di Un'estate al mare, di nuovo battiato per la compianta, peraltro Giulio di Russo. Ci sono delle rime come quelle tra gente indifferente che ci ricordano selli di Vasco Rossi. Eh, dove mi metterci la Vasco Rossi? Eh, beh, però io stavo domandando a quale minuto sarebbe arrivato. Cioè, tu non mi basti più, che sembra tu, tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Insomma, questo effetto puzzle che comunque ha una sua originalità, ha una sua consapevolezza. Allora, facciamo un attimo un'incorsione invece nel mondo dei giovani, perché noi qualche giorno fa, proprio qualche giorno prima della Chermezza Saramese, abbiamo incontrato Raffaele Gualazzi e abbiamo ascoltato appunto le sue opinioni, il suo parere sulla musica, sulla sua prossima tournée, anche sull'esperienza che avrebbe fatto. L'abbiamo già mandato in onda una parte, oggi facciamo vedere un altro spezzone, ci ascoltiamo anche un po' della sua musica e poi magari parliamo dei testi dei giovani. Certamente. Allora, via Gualazzi. No matter the way you will take, and I'm sure, baby, you'll be a rainbow to shave, and every time a woman steals your heart, open your wings to be a star, tell me how many days spent is about to sound like, our time has flown away just like our wine, what else can I say by the way you, my new friend, right now I hope you'll enjoy, cause this is the end. Credo che Sanremo sia un'opportunità, una bella opportunità di esprimersi per un musicista italiano, costituendo Sanremo uno dei punti, diciamo, dei momenti storici più importanti per la canzone italiana che sono rimasti a tutt'oggi. Questa dunque era la musica e le parole, in questo caso di Gualazzi intervistato, ecco, non si può dire che funzioni così bene il suo testo, senza che ovviamente mancargli il rispetto. No, è un testo che mostra la fatica di reggere questo ritmo gezzato e quindi di quelle che si chiamano tecnicamente zeppe, sai, mai, messi a fine verso e poi un po' troppi pronomi personali, me, te, te, me, caffè. Sembra un po' la gag che faceva Eli a un certo punto del pippero, quando appunto insisteva tutto su questo, per me, per te, bulgaro in me, bugiardo te. Sono soluzioni facili, sono scorciatoie. D'altro, è un musicista, è anche forse comprensibile che la musica in questo caso prevalga sul testo. Però non ci dimentichiamo che su ritmi simili Fred Buscaglione per primo e poi maestosamente Paolo Conte ha saputo usare parole tutt'altro che banali per raccontare vicende, fatti, atmosfere tutt'altro che banali. Comunque i gesizi sono molto stravaganti nell'uso delle parole, anche nei titoli, se pensiamo che un famoso disco del jazz si chiama Pitecantropus Erectus, possiamo perdonare al buon Galazzi questi peccati di gioventù. Ma lo pronuncia anche durante la canzone. Questo no, questo no, era strumentale, però sono dato per dirti. Senti, invece tu parlavi, anche in un tuo recente intervento, di compitino di canzonettese. Questo è un guaio, è un guaio delle ultime edizioni di Sanremo e ho la sensazione che sia l'effetto dei talent show. In questo caso fa piacere salutare in Raffael Gualazzi, invece un musicista che viene dalla musica dal vivo, dall'esperienza sul campo, davvero. Perché l'effetto dei talent show? Perché si dà grandissima importanza all'interpretazione, alla voce, nella migliore delle ipotesi, o comunque alla tenuta del personaggio sulla scena davanti alle telecamere e molta poca importanza, invece a chi è autore, anche da questo punto di vista. Gualazzi comunque rappresenta un'eccezione. In altre parole, se noi pensiamo che dalla schiera dei Giovanni di Sanremo sono usciti Ramazzotti, Zucchero, Vasco Rossi, persone che magari non sapevano cantare particolarmente bene, sono disposto a riconoscere persino questo di Vasco Rossi. Seconda citazione però. Però che hanno poi fatto la storia della musica italiana perché hanno creato un genere, uno stile, un modo anche di scrivere canzoni. Ecco, questo invece nelle ultime edizioni non c'è. E quindi con la parziale edizione, eccezione della canzone scritta da Niccolò Fabi, che è un testo che perlomeno lavora per sottrazione, asciuga, molto minimalista e quindi elegante, c'è proprio la tendenza molto più che nelle canzoni dei big. E questo è grave, che le canzoni dei giovani siano linguisticamente più passive, inerti, conservatrici, rischiano ancora di meno. C'è tutto proprio un conformismo che va dalle rime, anche qui alle metafore che sono sempre quelle, la pioggia, il cammino, il viaggio e il treno, e proprio agli aspetti linguistici. Io dico compitino di canzonettese perché sono molto attenti a usare sempre i congiuntivi, per esempio. Oppure c'è uno dei testi che addirittura usa il passato remoto, che davvero non esiste nell'italiano parlato se non in quello dei siciliani. Che salutiamo, più o meno. Che sì. Questa sensazione quindi di una paura di usare, da ogni punto di vista, dei temi, delle metafore, delle scelte linguistiche, che rende non quello che dovrebbe essere, cioè un laboratorio di novità, ma invece la retroguardia di un festival di Sanremo che già non è proprio l'avanguardia della canzone italiana. Ecco, allora hai toccato questo tasto e a un modo di conclusione facciamo una domanda che fecero una volta a Telonius Monk, penso. Beh, però mi spavento e me ne va. Ecco, infatti, gli dissero, maestro, ma dove va il jazz? Io risposto, il jazz va dove gli pare. Ecco, allora, alla luce di quello che si vede di Sanremo, possiamo dire che la canzone va dove gli pare, cioè da un'altra parte? Ma la canzone italiana, per fortuna, va da un'altra parte. Cioè, Sanremo non rappresenta, insisto per fortuna, almeno dal punto di vista dei testi, ma ho la sensazione anche delle musiche, quello che sta succedendo nella canzone italiana. Devo riconoscere, soltanto le edizioni del festival di Fabio Fazio portarono a Sanremo quello che stava succedendo nella canzone italiana. Blu Vertigo, Sul Sonica, Carmen Consoli, vincevano gli Avion Travel. Ecco, quelli erano festival che veramente rappresentavano ciò che di nuovo, di interessante e di bello, diciamolo, c'era nella canzone italiana anche nei testi. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie Giuseppe. Grazie a voi.